Sì, sotto il zasso. Ormai, scosta, siamo dietro. Alla prossima. Allora, stupido che devo portare giù. No, no, quello che mi ha messo a porta per fermarla. Ma questa qua, guarda, io scommetto qualsiasi cosa, non si muove più. Questi qua, controllate. Sai cos'è? Che è probabilmente più bassa e quando fa il giro passa fuori di là, perché la forza più alta l'acqua la fa di là. Può anche darsi. No, no, ma anche se viene giù il diluvio. Va però, ormai sono tirato, è impiegato la lamiera. Bisogna andare a vedere, porta giù la mazza e non prende via quei due. Perché quello lì, io sapevo che prendeva più di vella, mi sono fermato apposta perché... Se la prendi dentro, si capote. Questo è il prigioniero. Ah, lui c'è sul... Ma sai perché si sganciava, oltre i peri. Giù che c'è il fotografo ufficiale. Prendi la larga perché va che tocca la pedivella di qua, è a sinistra, eh. Bisogna romperlo via quel dente che c'è lì. Perché prende dentro, eh. Prendi la larga bene e poi la raddrizzi di colpo. Perché se no ti tocca dentro, vai piano e basta. Anche a scendere a piedi. Se non stai attento, prendi dentro la punta dello stivale. Qualche serragno lì che viene fuori a far manutenzione. Eh, qua ci stanno, eh. Comeriggio, tavolino, ma che figata. Tavolino, far per chiudere così, da quei bis a fai da... Vabbè, qua lo vanno. Ci abbiamo anche i cosi per appendere gli strizioni. Goccio, goccio, goccio. Goccio, goccio, goccio. Largati. Così prendi dentro. Così, devi allargarla tutta prima. Ti andrà una scaletta, eh. Eh, eh, quello il fatto. Non puoi esagerare. Lì, però, ascolta. Aspetta prima. Uoi, guardi e colotti. Abbiamo pulito. Ma l'ho visto che di te, eh. L'ho detto allora, mi preoccupo proprio. E' da quando ho regolato molto. Eh, infatti. Perché prima era una liberola. Allora se faccio il doppio sasso non ce lo fanno. E ti continuo a fare quella storia. Non lo faccio dentro un... Una cazzo di guarnizione sul fondo. Alvame una bestia, Severino. E' anche saltato giù dal... Dal bucone. Ohle! E' saltato fuori. Altro che palle. E adesso... Eh, là dove c'è lo salto. Ho detto arriva lì, si fermerà e scende. Perché qua se lo faccio anche io. Adesso sta giù. E' caino, eh. Adesso gli hai già fatto la lavanda a gas. Che si è messa in riga. E' capito che c'è. E' un'azza freno, mia faccia. E' un carino si frenato. 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 Perché devi sempre tenere il freno dietro. E' un carino, è un carino. Adesso c'è gli acuzzi, eh. Occhio. Sì, ci sono tutti fermi. Se non c'è dentro discese strane. Bello questo fai.